Questo è il paliotto di Courmayeur, decorava il fronte dell'altare della chiesa parrocchiale di Courmayeur, è in abete rosso, intagliato e dipinto e si data verso il 1200-1210. Presenta al centro Cristo, affiancato dalla Vergine, San Pietro, la Maddalena e dall'altra parte San Pantaleone, cui era intitolata la chiesa di Courmayeur, San Paolo e Santa Caterina. È un oggetto che sta stilisticamente tra il romanico e il gotico, perché ci sono ancora figure impacciate e rigide come San Pietro, con questa chiave sproporzionata, mentre il gusto per i tessuti preziosi, per esempio nel San Pantaleone, e l'allure elegante delle figure rinvia già al mondo gotico.